Che effetto fa a fare tre gol in Serie A? Io non mi sono reso conto ancora di che effetto fa, sicuramente le emozioni sono fortissime. Penso comunque di aver fatto bene e la cosa che appunto mi ha fatto più piacere è stato l'abbraccio dei miei compagni e del mister. Si parlava a inizio anno addirittura dell'interessamento per te da parte sia del Manchester United che del Manchester City, ma com'è andata poi? Beh io non lo so, sicuramente mi fanno piacere queste voci, queste notizie, però io per adesso sono un giocatore del Bari, spero e mi impegno per rimanere anche l'anno prossimo un giocatore del Bari. Ieri hai parlato di Cassano e di come per te sarebbe importante riuscire a ricalcare la sua carriera, praticamente voi venite dalla stessa scuola calcio. Parlami un po' del tuo rapporto con lui, se magari l'hai sentito, se c'è stato modo di avere un confronto direttamente con Antonio. No, io non ho mai avuto il piacere di sentirlo, però ho avuto il piacere di avere una sua maglietta e appunto è stato comunque uno dei miei idoli per cui abbiamo sempre fatto il tifo, anche perché è barese, quindi tutta Bari tifa per Cassano. Mi piacerebbe, come ho detto, imitare parte della sua carriera tutto qui. Lei è tifoso del Bari, sì? Sì, io sono barese 100%, quindi chiaramente lo senti addosso, insomma, il colore del Bari, per cui soffro come soffrono tutti i tifosi baresi, ovviamente. E quindi, insomma, il fatto di avere un ragazzo che gioca a calcio sembra anche bene, è chiaro che mi fa piacere e onore, insomma. Credo che sia un onore per tutti i baresi. Ieri quanti battiti hai raggiunto con i tre gol del ragazzo? Cominciavo a preoccuparmi, sinceramente, anche se poi dopo il secondo, diciamo, ci ho fatto l'abitudine, insomma, però, insomma, le sensazioni, le emozioni erano fortissime.